Mi marcisce la zucca, era così bella già a inizio luglio ma rischia di marcire. Come facciamo? Ecco un trucchetto facile facile per salvarla. Basterà sollevarla e mettere sotto una sicella di legno per isolarla dall'umidità del suolo. In qualche caso potete usare anche una bella pietra oppure se la zucca si lascia sollevare una cassetta della frutta messa al contrario, così. Su cotta mia cresci che già ti vedo al forno oppure col risotto.